amici dell'orientini in parte la stagione 2022 siamo ad albero bello città patrimonio dell'unesco e uno dei borghi più belli d'italia chi sarà a vincere questa gara di altissimo livello lo scopriremo presto e oggi parte anche la lunga volata che ci porterà a luglio per i campionati mondiali master sempre in puglia gargano viviamo assieme però la giornata di oggi oggi c'è l'orienti ring no dai pietro oggi si corre l'orienti ring lei del mestiere ci faccio finta ci provo ma non mi riesce sempre orienti ring cioè qual è il segreto per affrontare albero bello segreto in questi baffi no no attenzione loro vengono da israele sicuramente sanno cos'è l'orienti ring today in albero bello orienti ring duono di sport oggi orienti ring no domani duoto ed ora professiamo un po di modestia ma perché ha voluto fare una foto con me è un grande onore poi un grande giornalista fa la differenza thank you it was very cool city i've never seen anything like this yeah it was really special i think the the houses look like something from hogwarts or something it was really amazing to run a sprinter dalbero bello è tutto